Abbiamo la forza, la consapevolezza di essere in un buon momento, di essere un buon gruppo, di aver trovato delle certezze e affrontando secondo me partita dopo partita con la consapevolezza di poterci divertire credo che possiamo raggiungere un bel traguardo. Però credo che l'importante sia riuscire a prendere partita dopo partita nel modo giusto perché andremo a affrontare squadre che devono assolutamente salvarsi, quindi non è facile. Però preso nel modo giusto credo che possiamo dire la nostra fino alla fine. L'obiettivo sicuramente è di stare attaccato al carro Milan il più possibile. In otto partite non sono poche, ma ci sono tutte le possibilità per finire veramente bene. Abbiamo la fortuna di poter recuperare qualcuno, sotto questo punto di vista è arrivato nel momento migliore. Credo, e vedendo gli allenari, che possano rientrare tutti per la partita con il Carpi, abbiamo tanti nazionali fuori, chi è qua, come spesso succede, lavora più del solito. Quindi è bene così perché andremo a affrontare un finale di stagione difficile e soprattutto una prima partita contro il Carpi che è una partita delicata, difficile contro un avversario che sta facendo molto bene, contro un avversario con una mentalità scomoda perché sappiamo benissimo che tipo di calcio fanno e soprattutto è un derby. Torneremo a giocare nello stadio che ci ha regalato tante soddisfazioni, quindi credo che sia una partita veramente bella da giocare. Vengono da due vittorie esaltanti, hanno agganciato il Palermo davanti, quindi è un ottimo momento per loro e penso che abbiano tutte le intenzioni di continuare battendoci nel derby. Bisogna farsi assolutamente trovare pronti, ma credo che lo saremo perché è il momento anche per noi di spingere, è il momento di andare a cercare qualcos'altro, è il momento di andare oltre e quindi bisogna assolutamente partire dalla partita con loro, che è sempre un derby che darebbe molta soddisfazione a noi, ai tifosi, alla società, portarlo a casa.